Via Portici e la diacente piazza del Grano, il cuore di Bolzano, la casa della Pesa, uno dei simboli del capoluogo alto tesino. E' questa la nuova sede dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino. Adesso ovviamente l'Euregio del Tirolo su Tirolo Trentino è arrivato nel cuore della città di Bolzano, nel cuore dell'Alto Adige e questo è anche un segnale importante perché questo progetto è importantissimo, vogliamo far vedere cosa significa l'Europa per noi e come l'Europa potrebbe essere, l'Europa delle regioni, per i cittadini e soprattutto un'Europa che supera i confini. Con il trasferimento in pieno centro dell'ufficio comune, l'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino volta pagina. Sarà visibile ai cittadini la sintonia e la cooperazione tra i membri dell'Euregio. Oggi l'Euregio volta pagina, noi siamo adesso attivi, operativi nella nuova sede, proprio al centro di Bolzano, nella casa della Pesa e da oggi il sistema Euregio funzionerà in un modo ancora più ampio, più moderno perché noi siamo adesso legati fortemente a tantissime attività culturali, abbiamo una struttura bellissima, proprio al centro, molto visibile e sin dal 1 luglio così noi siamo anche per la gente dell'Euregio con un indirizzo locati nel cuore della città di Bolzano e questo è un grande passo davanti per tutti noi. Tirolo Alto Adige Trentino sviluppano e realizzano numerosi progetti in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e i partner che provengono da diversi ambiti. La casa della Pesa rappresenta il luogo ideale per continuare su questa strada di importanti sinergie. La proprietà dell'edificio, risalente al XIII secolo, è della fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. E' stato un lungo tragitto, attraverso alcuni anni è nata l'idea di come riempire questa casa con cultura convincendo delle istituzioni culturali importanti di una collaborazione dove ognuno potesse fare le sue cose, i suoi festival, la sua attività ma anche far crescere qualcosa di nuovo nell'insieme. I collaboratori dell'Euregio possono da oggi usufruire di sei moderni uffici disposti su una superficie di 254 metri quadri.